ciao ragazzi io sono riccardo ben tornati nel mio canale youtube cosa c'è dentro questa scatola bella avete visto dal titolo e dall'immagine di copertina una piccola stampante forse la stampante 3d più piccola al mondo la esitred k7 questa piccola stampante è una delle più piccole delle più economiche perché costa meno di 100 euro mi pare sia 99 dollari ma vi lascerò il link giù nel primo commento della descrizione spero pure associato a un codice di sconto tra l'altro a proposito di codici di sconti eccetera sul sito troverete diversi sconti vi lascerò comunque tutto ben spiegato nel primo commento nella descrizione troverete 8 regali e degli sconti che vi permetteranno di comprare stampante 3d computer eccetera a meno di 200 euro ora però concentriamoci su questo prodotto che tra l'altro era già finito in europa è andato praticamente a ruba è stato rifornito quindi ora ve lo faccio vedere e fino al 30 agosto avete appunto la possibilità di acquistarla associandolo alle promozioni che trovate giù ma basta parlare mettiamolo sul bancone e vediamo questa piccola stampantina cosa ci permette di fare iniziamo allora apriamo questa grande scatola e vediamo il contenuto sulla parte superiore manuale di istruzioni troviamo questo piccolo manuale scritto innanzitutto in inglese perché c'è il titolo in inglese cinese e anche l'italiano quindi c'è tutta la spiegazione vediamo pure il livello di traduzione quindi introduzione di preparazione punto 1 accensione inserire l'alimentatore nella porta di alimentazione della scatola di controllo della stampante dopo l'accensione pulsante play si illuminerà dalla prima frase sembra già scritto bene sono diverse immagini che fanno capire tutti i vari passaggi quindi adesso preoccupiamoci di continuare questo unboxing abbiamo pure questa guida rapidissima allora per prima cosa troviamo un po di filamento per fare le prime prove qua troviamo anche un lettore di memory card poi un piccolissimo cavetto usb tutto in proporzione alla dimensione della stampante questo penso sia un profilo laterale che servirà a sostenere qualcosa qua troviamo un altro lettore di memory card con una memory card all'interno un piccolo cacciavite e delle vitine questo sicuramente il supporto per la bobbina e questa è la struttura della stampante che mi sembra voglia richiamare come colorazione forse la prusa anche con questi profili in questo modo ok c'è pure un piccolo alimentatore togliamo tutto facciamo il montaggio accendiamola e vediamo come risulta c'è da dire che il polistirolo è sagomato così bene a millimetro che per poter togliere le cose dalla scatola servono assolutamente due mani e allora questo passaggio dovrebbe essere intuitivo anche perché qua abbiamo questi fori qua abbiamo questa sagomatura e il braccio è rivolto verso il piatto di stampa quindi inseriamolo incastrandolo in questa sagomatura basta semplicemente metterlo così e dopodiché con il cacciavite che abbiamo trovato all'interno di questa bustina con queste viti dovremmo riuscire a fissarlo avvito leggermente la prima vita dopo di che faccio arretrare questa parte spingo ok adesso è incastrato non l'ho fatto prima per evitare di forzarlo inutilmente mettiamo anche le altre viti e diciamo che già il lavoro di montaggio con queste quattro viti è praticamente completo poi c'è solamente da incastrare il reggibobbina i fori sono quattro ma le viti sono cinque quindi o una serve per montare qualche altra cosa oppure ne hanno messa una in più di scorta comunque occupiamoci intanto di assemblare questo mettiamo anche il reggibobbina non so dove vada guardiamo anche il manuale di istruzioni per vedere dove mettere questo reggibobbina ci sono tante immagini quindi anche guardando il comparto che non è in italiano si capisce perfettamente bisogno utilizzare questo posizionato da questa parte e poi bisogna mettere questo semplicemente così questo rimarrà nella sua posizione del peso della bobina favorirà l'alloggiamento in modo di evitare che si sbilanci in avanti ok piccola stampantina obiettivamente da vedere simpatica fa sorridere allora questi connettori già arrivano montati adesso c'è da montare questi altri connettori è semplice tra l'altro perché combate una perfezione quindi non si può sbagliare inseriamo anche questo ok sembra che non ci sia altro da montare quindi la vita in più era di scorta ma voglio accenderla immediatamente dopodiché mi occuperò di studiare un pochettino lo slicer nella parte frontale abbiamo quindi le varie connessioni questa l'alimentazione il cavo per poterla collegare tramite presa usb questo sarà un tastino di selezione che adesso vedremo cosa sia questo è il tasto per mandarla la home e invece questo è lo slot per inserire la memory card quindi inserito il capo di alimentazione si accende già il tastino play quindi ipotizio che inserendo la scheda e premendo il tastino play dovrebbe partire proviamo a mandarla in home ok qualcosa si muove perché sento del rumore ok lo tende si è mosso anche il piatto si muove c'è un fine corsa va bene finora sta andando bene si sta muovendo sta facendo solamente dei movimenti però non diciamo lo sta andando problemi vedremo come si comporta in fase di stampa tra l'altro abbiamo qua pure le rotelline per poter fare il livellamento del piatto delle piccole rotelle in proporzione quindi muovendo queste rotelline potremmo decidere l'altezza dei vari angoli e quindi fare il livellamento tra l'altro non so se ve lo sentite ma si sono appena accese delle ventole quindi anche un sistema di raffreddamento allora come stampante mi sembrava meno evoluta invece guardando la selezione per esempio di questo tastino il primo serve per inserire il filamento lo tende si riscalda e poi il meccanismo tira il filamento all'interno è un utente tra l'altro direct drive poi invece nella posizione centrale serve per poter stampare e invece spostandolo verso la destra serve per poter estrarre quindi scaricare il filamento quindi l'operazione opposta a quella dell'inserimento ci sono anche le caratteristiche tecniche leggiamole prima di iniziare quindi a un ugello da 0 4 mm il materiale di stampa pl a la temperatura di stampa dell'estrusore da 180 a 230 gradi la velocità di stampa davvero bassissima quindi 10 40 mm al secondo il volume di stampa e 100 per cento per cento molto piccola la dimensione della macchina invece come vedete 175 per 235 per 270 mm è compatibile con il sistema operativo windows oppure per il mac si può utilizzare con connessione tramite memory card oppure con connessione usb i file classici g code e tra l'altro supporta sia e si ver che cura quindi si può utilizzare con lo slicer diciamo uno dei più diffusi e poi queste sono caratteristiche tecniche riguardanti temperatura umidità eccetera eccetera quindi va bene dai vediamo cosa trovo nella memory card e proviamo a fare una stampa con qualcosa che ci faccia capire come lavora e la valutiamo insieme siamo pronti per iniziare però c'è un però volevo utilizzare un filamento di buona qualità quindi questo della solo che tra l'altro vi lascerò il link pure nel primo commento della descrizione perché come vi dico sempre ma vi lascio sempre questi link giù nel primo commento della descrizione sono degli ottimi filamenti però come vedete se vogliamo utilizzare una bobina così grande oltre a non riuscire a rimanere nel supporto poi c'è il rischio che vada a urtare contro il piatto di stampa quindi dovete utilizzare delle bobine più piccole non queste da un chilo questa ragione questa volta utilizzerò il filamento che troviamo in dotazione d'altra parte chi compra questa stampante la prima prova sicuramente se soprattutto se è la prima stampante la farà con ciò che trova all'interno quindi mettiamo il filamento e vediamo come si comporta faremo anche il livellamento del piatto eccetera inseriamo lo spinotto mandiamo alla home di nuovo anche se l'abbiamo fatto poco fa o lo smossa un pochettino quindi dovrebbe andare di nuovo alla home ok per poter livellare bisogna staccare l'alimentazione dopodiché bisogna spostare lo tende metterla super giù ai quattro angoli e poi con il classico fogliettino fare il livellamento bisogna utilizzare un foglio a quattro un foglio come questo per esempio così spesso potrebbe dare problemi utilizziamo ne uno più sottile ok qua passa con molta facilità quindi dobbiamo sollevare dobbiamo fare in modo come su tutte le stampanti che il foglio venga trattenuto leggermente procedura non facilissima effettivamente perché le rotelline sono piccole non sono facilissime da raggiungere però alla fine si può fare spostiamo anche da quest'altra parte per le dimensioni del piatto di stampa penso che sia una procedura che si faccia molto molto raramente quindi livellata da tutti e quattro gli angoli adesso la accendiamo e vediamo quello che è in grado di fare stamperò un file che è presente nella memory card quindi un gattino una sorta di gattino c'è da dire che nella memory card troverete tantissimi video che riguardano il livellamento tutto quello che riguarda la stampante diversi file da poter stampare il software eccetera quindi questo l'ho apprezzato tantissimo perché oltre alla spiegazione testuale ci sono anche tanti video tante foto insomma fatto davvero bene fate attenzione perché questo tipo di filamento quando viene venduto in questo modo spesso è un po annodato quindi almeno la prima parte assicuratevi che sia libera di scorrere la mettiamo nel reggibobbina lo taglio a 45 gradi faccio la procedura per l'inserimento del filamento quindi spostandolo verso sinistra dovrebbe riscaldarsi lo tende e poi tirare il filamento all'interno poi un altro dettaglio questo piatto di stampa non è riscaldato però è removibile quindi magnetico come vedete si solleva tipo facilmente staccare il pezzo quando aderito ma vendono anche un piatto di stampa riscaldato mi sembra che stia tirando il filamento sì ok sta entrando quindi lo sta tirando autonomamente è estruso il filamento adesso ho messo la scheda primo play e lo abbiamo stavo dicendo faremo ovviamente un time lapse perché visto che questa stampante stampa molto lentamente non so quanto tempo richieda abbia la stampa guardiamo il video e poi vediamo il pezzo stampato alla fine quindi premiamo play per l'abbiamo Grazie a tutti. 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 E ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo, dalla K7. Ci vediamo a presto. Ciao ciao.